L'ufficio per il processo rappresenta una delle più importanti sfide culturali per la giustizia degli ultimi anni. Abbiamo chiesto per molto tempo e lungamente un ausilio effettivo alle funzioni giurisdizionali così da poter lasciare e mettere a lato tutta una serie di adempimenti amministrativi propri e impropri che ostacolavano il pieno esercizio della giurisdizione per la finalità di garantire i diritti della persona e la risposta efficiente alla domanda di giustizia. Per questo si tratta di una svolta, quella di aver previsto non tanto l'ufficio per il processo perché chiaramente era già un istituto vigente nel nostro ordinamento ma che aveva un'applicazione di tipo sperimentale in quanto mancava l'aspetto principale, quello della risorsa. Ora abbiamo questi addetti all'ufficio del processo che contribuiranno in maniera determinante, speriamo al miglioramento dell'efficienza della giustizia e della risposta alla domanda di giustizia.